Come promesso il sindaco ha incontrato i commercianti di Corso Roma a Lanciano dopo le recenti proteste per le multe combinate dalla polizia municipale e nessuna tolleranza alla sosta selvaggia. Tante le idee illustrate durante il confronto ma sono anche tante le anime e diverse le esigenze per giungere subito ad una proposta largamente condivisa. L'unico punto finora certo è il cambiamento dell'orario della zona traffico limitato che va ridotto è stato detto mentre sembra mettere tutti d'accordo anche la proposta di sperimentare l'isola pedonale estiva. La parola agli esercenti Elisabetta Gaeta titolare del negozio EGA. Abbiamo chiesto all'unanimità che sia comunque diciamo abolita la zona traffico limitato almeno nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 e questo per dare la possibilità ai quattro parrucchieri appunto attività di parrucchieri che sono su Corso Roma di poter tornare a lavorare a riaprire in quell'arco di fascia oraria perché non sono stati penalizzati e inoltre abbiamo chiesto anche la possibilità almeno nel periodo invernale di abolire la zona traffico limitato la domenica perché su Corso Roma non dimentichiamolo che era H24 essendoci anche una farmacia che spesso è di turno e rimane aperta la domenica mattina quindi ci è sembrato comunque opportuno fare questa richiesta anche se poi chi va a comprare medicinali in farmacia basta che depositi lasci la targa appunto alla farmacissa per non essere multato però abbiamo chiesto questo. I ristoratori puntano all'isola pedonale estiva e tavolini all'aperto la proposta di Eligio Marcheggiano di 101. Una sperimentazione che dovremmo portare avanti per poter permettere il ritorno della gente dei turisti a passeggiare per i vicoli e le strade del centro storico. Chiaramente vanno fatte delle migliorie come arredi urbani, regolamentale per il traffico serale. L'impegno dovrebbe essere a effettuare delle manifestazioni inerenti al centro storico. Io come tanti altri pensiamo di offrire dei mercatini di prodotti tipici durante il sabato, la domenica oppure altri giorni. Con esclusivamente prodotti tipici locali inviteremo i produttori caseifici, produttori di olio a partecipare a questa iniziativa.